Dal 30 giugno chi non accetta pagamenti elettronici può incorrere in sanzioni in virtù dell'obbligo d'incasso a mezzo POS per tutte le categorie di esercenti e professionisti. Ogni cittadino ha diritto di effettuare i suoi pagamenti abbandonando definitivamente il contante, qualsiasi sia l'importo dell'operazione e qualsiasi sia il bene e servizio acquistato. Da qui l'idea di Banca Campania Centro, aderenti al gruppo BCCICCREA, di organizzare un'iniziativa itinerante finalizzata a sensibilizzare famiglie ed imprese del territorio sui pagamenti digitali. E' nato così il Tour Possibile, che dopo il grande riscontro del primo appuntamento di giugno a Eboli ha fatto tappa a Salerno, alla filiale di Salerno, di via Silvio Baratta. Soci, clienti, imprenditori e privati interessati all'iniziativa hanno avuto la possibilità di incontrare gli specialisti della BCC per saperne di più su carte di pagamento, apparecchi post di ultima generazione, commercio elettronico ma anche di servizi per gli incassi a distanza senza carta di credito. Il percorso che è necessario fare per contribuire alla digitalizzazione del sistema perché ormai i pagamenti diventano sempre più digitalizzati anche per motivi di antiriciclaggio, per motivi di trasparenza, di tracciabilità. Questa è una delle attività che ci consentono, grazie anche al supporto del nostro capogruppo, di poter diffondere il più possibile quelle che sono le procedure, le carte di credito, i post, la digitalizzazione in genere. L'attività bancaria si orienta ormai sempre di più verso questo tipo di attività. La volontà della banca è di stare sempre più vicino alla clientela e soprattutto aiutare a conoscere i nuovi meccanismi, le nuove tecnologie per facilitare le attività. Possiamo restare indietro, bisogna nei limiti del possibile addirittura anticipare quelle che sono le evoluzioni del mercato e quindi le innovazioni fanno parte del quotidiano e quindi è importante che la banca aiuti in quello che è il suo settore di competenza, qui stiamo parlando di pagamenti, la clientela affinché possano conoscere tutto quello che offre il mercato al momento.